Lavorare da remoto, ovvero da casa o da ovunque si voglia, può rappresentare un risparmio di tempo e di energie notevole, tant'è che molte persone che hanno sperimentato per la prima volta questa modalità di lavoro durante la pandemia, adesso sono disposte addirittura a licenziarsi pur di non tornare in ufficio. E sebbene diversi studi scientifici hanno dimostrato come il remote working o il telelavoro, se vogliamo chiamarlo in italiano, abbia degli effetti positivi non solo sui dipendenti, sui lavoratori, ma anche sulle aziende in termini di produttività e di risparmio dei corsi energetici, comunque diverse multinazionali, in particolare le big tech americane come Amazon, Facebook e Twitter, stanno negli ultimi mesi richiamando i propri dipendenti a lavorare in sede. In questo video vedremo allora quelli che sono i tre principali motivi che stanno spingendo le aziende a fare questa scelta in apparente contrasto con i propri stessi interessi e analizzeremo anche i pro e contro del remote working che sono ovviamente di interesse anche per i liberi professionisti e a tal proposito poi vi parlerò dello sponsor di questo video che è FiscoZen, che può essere un servizio molto utile se fate parte di quest'ultima categoria. Prima di partire però facciamo una piccola precisazione tecnica perché, come vi sarete resi conto, io in questo video parlo di remote working e non dell'espressione utilizzata in Italia, ovvero smart working. Molti di voi immagino già sapranno la differenza perché se ne è parlato spesso durante la pandemia ma sostanzialmente il remote working o il lavoro da remoto è un lavoro che viene fatto invece che dall'ufficio da una postazione diversa che solitamente appunto è da casa. Con smart working invece si intende più in generale una modalità di lavoro più intelligente, cosa vuol dire? Che evita gli sprechi di tempo e di energie e si concentra sugli obiettivi. L'idea di base è quindi quella di lavorare in maniera efficiente senza perdersi in formalità inutili tra cui ci potrebbe essere anche quella di andare in ufficio. Ma in questo video ci concentreremo soprattutto sugli effetti del lavoro da remoto perché nelle big tech americane in particolare lo smart working è una filosofia di lavoro già presente da parecchio tempo, non è una cosa che è nata come in Italia magari durante la pandemia. Fatta questa premessa partiamo quindi con il primo motivo per cui molte aziende nel mondo, in particolare le multinazionali, stanno richiamando sempre di più i dipendenti in ufficio. E questo primo motivo è forse quello più intuitivo ovvero quello legato alla qualità delle interazioni tra i dipendenti. Secondo il CEO di Amazon Andy Jesse anche l'inventiva e la creatività dei lavoratori sarebbe infatti appiattita, smorzata dal remote working. Ma è davvero così? Beh effettivamente secondo una ricerca condotta nei primi sei mesi del 2020 nella sede di Microsoft negli Stati Uniti, che conta 61.000 dipendenti, quindi un campione molto ampio, è emerso che le comunicazioni tra i lavoratori in remoto erano più statiche e la condivisione delle informazioni era decisamente più difficoltosa. Anche altri studi hanno messo in evidenza i medesimi limiti del remote working, ma allo stesso tempo hanno concluso che gli effetti positivi di quest'ultimo superano quelli negativi. Tra i vantaggi troviamo molti di quelli che abbiamo già citato nel video precedente sulla settimana corta, ovvero in particolare la possibilità di bilanciare in maniera più efficace la vita lavorativa con quella privata, con un conseguente beneficio sia sulla qualità della vita in generale e in particolare sulla soddisfazione lavorativa e su quella relazionale. Ovviamente i medesimi benefici possono riguardare anche i liberi professionisti, che però a differenza dei dipendenti hanno tutta una serie di impellenze burocratiche che potrebbero comportare un maggiore stress e abbassare potenzialmente la qualità della vita. E da questo punto di vista vi consiglio lo sponsor del video che io stesso utilizzo da tempo e che può aiutarvi appunto a gestire tutti gli stress legati alla partita IVA, ovvero Fiscozen. Fiscozen è appunto un servizio online che ti segue passo passo dall'apertura alla gestione di tutti gli aspetti che riguardano la partita IVA in regime forfettario, ovvero quella che non supera gli 85.000 euro di fatturato anno. Per qualunque dubbio avete anche un commercialista dedicato che vi risponderà sia via mail che via telefonica in tempi rapidissimi. Il gestionale online per l'emissione delle fatture e in generale per la contabilità è estremamente intuitivo e facile da utilizzare. C'è anche un utilissimo sistema di calcolo automatico delle tasse che vi dice sostanzialmente quanto andrete a pagare l'anno successivo. Integrata nel servizio c'è anche la fatturazione elettronica, oggi indispensabile, e se siete psicologi vi permette anche di inviare in maniera automatica le vostre fatture al sistema Tessera sanitaria. Il prezzo dell'abbonamento annuale include anche la dichiarazione dei redditi ed è estremamente competitivo rispetto al commercialista tradizionale. Se avete dubbi o domande sulla partita IVA vi lascio in descrizione il link per richiedere una consulenza gratuita a un esperto fiscale di Fiscozen. E se volete provare il loro servizio vi lascio anche il link che vi applicherà uno sconto automatico di 50 euro. In questo modo ovviamente supporterete anche il mio lavoro su questo canale YouTube, quindi grazie mille a chi lo farà. Ma andiamo avanti. Allora il secondo punto per cui le aziende stanno sempre più richiamando i dipendenti in ufficio è legato ovviamente alla produttività. Se è vero infatti che molti studi scientifici dimostrano come la produttività dei lavoratori aumenti in remote working è anche vero che non tutti i risultati di questi studi sono lineari, anzi alcuni vanno in controtendenza. E rimangono dei dubbi soprattutto sul lungo periodo, ovvero una volta terminato il cosiddetto effetto out-of-turn di cui abbiamo parlato appunto nel video precedente. In particolare gli studi dimostrano come il cosiddetto tecno stress legato al remote working potrebbe essere un fattore in grado di ridurre la produttività dei lavoratori. Con tecno stress si intende quello stress legato all'utilizzo delle nuove tecnologie che ovviamente lavorando da casa è maggiore. Ci sono lavoratori infatti che passano intere giornate in videochiamata e questo può essere per alcuni decisamente più dispendioso rispetto che le interazioni dal vivo. Molto dipende ovviamente anche da quanto siamo abituati predisposti all'utilizzo delle nuove tecnologie. Infatti i nativi digitali probabilmente vedranno tutto ciò come più naturale mentre chi è cresciuto in un mondo senza questa pervasione delle nuove tecnologie probabilmente lo soffrirà di più. Altri studi hanno dimostrato come la produttività dei lavoratori in remote working aumenti perché questi sono più responsabilizzati sugli obiettivi da raggiungere. Ovvero si supera il concetto di lavoro legato a un tempo e a uno spazio determinato e si incomincia appunto a lavorare per obiettivi ovvero il cosiddetto smart working. Gli stessi studi dimostrano però che a fronte di un aumento della produttività legata al lavoro da casa si verifica anche un abbassamento dell'interesse per attività extralavorative. Questo perché la vita lavorativa si mischia e penetra sempre di più negli spazi privati andando spesso a fagocitare quello che è il tempo libero. E questo dimostra che in realtà lavorare da casa non sempre migliora il bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata, anzi in alcuni casi lo peggiora. Da questo punto di vista è fondamentale la capacità di organizzazione del singolo individuo perché nonostante si lavori da casa è importante che si dedichino degli slot orari ben precisi al lavoro e degli slot ben precisi invece alla vita privata. Allo stesso modo è fondamentale anche la gestione degli spazi perché è importante avere degli spazi dedicati specificatamente al lavoro e invece degli spazi dove ci si rilassa e si pensa ad altro in modo anche da riuscire a staccare mentalmente dal lavoro. Questo ovviamente è molto più difficile se non impossibile per chi vive in spazi ristretti. Per esempio se io vivo in un monolocale non sarà possibile per me cambiare la mia postazione di lavoro da quella in cui mi rilasso o da quella in cui mangio e quindi rischierò di far collassare tutto il mio mondo all'interno di quattro mura generando ovviamente un'oppressione dello spazio decisamente superiore rispetto a chi magari ha la possibilità di lavorare in una villa ampia con uno studio dedicato e magari degli spazi appunto dove riesce a rilassarsi e a fare altro. Allo stesso modo gli studi dimostrano come per alcuni individui il remote working aumenti i problemi legati alla salute mentre per altri li migliora. Ci sono persone che aumentano la propria sedentarietà lavorando da casa e persone che invece aumentano la propria attività sportiva. Addirittura il remote working è associato in alcune persone a un aumento del consumo di alcol e in generale di sostanze negative per la nostra salute. Questo ci fa capire come gli effetti positivi o negativi del lavorare da casa dipenda molto dai singoli individui, dalla loro capacità di auto-organizzarsi, di auto-disciplinarsi e in generale dalle proprie predisposizioni personali. Per alcuni passare così tanto tempo a casa aumenta notevolmente il rischio di dipendenze. Dipendenze da cibo, da sostanze, dipendenze da intrattenimento. Un altro fattore che sembra incidere sulla produttività e sulla qualità della vita in remote working è la presenza di figli minorenni. Però da questo punto di vista gli studi ci danno delle informazioni che per alcuni potranno sembrare controintuitive. Infatti sembra che chi ha figli minorenni trae maggiore vantaggio ed è ancora più produttivo lavorando da casa. Ciò probabilmente legato al fatto che avendo figli piccoli e dovendosi occupare di loro, magari portandoli a scuola eccetera, poter avere una flessibilità, una maggiore flessibilità sugli orari di lavoro è sicuramente un vantaggio enorme che evita alle persone di dover fare dei salti mortali per riuscire a conciliare tutto. E da questo punto di vista è positivo il fatto che la legge italiana abbia prorogato il diritto allo smart working per tutte le madri ai padri con figli inferiori ai 14 anni. Si potrebbe però ipotizzare che questo effetto benefico legato allo smart working per chi ha figli piccoli sia soprattutto per le donne, perché ancora oggi a livello culturale sono coloro che si prendono maggiormente cura sia dei figli che della casa. Purtroppo lo studio italiano che ho citato precedentemente non ha incluso la variabile genere, però ho trovato uno studio condotto in Sud America che ha evidenziato come il remote working sembra avere un effetto di stress maggiore sugli uomini. Non è chiaro se questo maggiore stress sperimentato dagli uomini dipenda dal fatto che ci siano figli o meno in casa, però potrebbe essere un'ipotesi plausibile. Quindi potremmo in generale concludere che la maggior parte degli studi sul remote working dimostrano come effettivamente questa modalità di lavoro generi un aumento della produttività, ma in realtà le ripercussioni positive sulla salute e sul bilanciamento tra vita lavorativa e vita relazionale sono più ondivaghe e cambiano molto da persona a persona. In ogni caso il motivo per cui molte aziende stanno richiamando i lavoratori in ufficio è legato proprio alla convinzione, al di là degli studi, che queste persone a casa siano meno produttive poiché meno controllate e controllabili. La cosa positiva però è che il rientro in ufficio richiesto nella maggior parte dei casi non è totale, ma si ferma di solito a due, tre, quattro giorni. E secondo uno studio giapponese il lavoro ibrido, ovvero in parte a casa e in parte in ufficio, sembra in assoluto essere quello più efficiente sia per le aziende che per i dipendenti. Ma arriviamo ora in conclusione a quello che è il terzo motivo per cui le aziende stanno richiamando i dipendenti in ufficio, che è un punto che esula un po' dalle dinamiche psicosociali ed entra invece nel campo più economico-fiscale. Che come sapete ovviamente è meno di mia competenza perché io sono uno psicologo e non mi occupo di economia, però è giusto citarlo perché è una variabile rilevante. E questo motivo è legato al grande investimento immobiliare che hanno fatto le aziende nel corso degli anni per accapararsi giganteschi edifici commerciali. Certo, lavorando più da casa si risparmia un po' sulle bollette, sull'energia, però in realtà le aziende, soprattutto quelle più grandi, devono per forza mantenere attive queste grandi strutture e quindi ciò ha dei costi. E mantenerle attive senza nessuno che ci va a lavorare sicuramente viene percepito sempre di più come un grande spreco. A questo punto qualcuno di voi potrebbe giustamente obiettare ma perché non li vendono questi edifici oppure perché non interrompono gli affitti? Beh, in realtà non è così semplice. Innanzitutto perché gli affitti per gli edifici commerciali di solito sono molto lunghi, per esempio in Italia il minimo è sei anni. E inoltre vendere gli immobili commerciali per le aziende in questo periodo rischia di generare una grande perdita a bilancio. Sì, perché proprio in seguito alla pandemia e alla diffusione del lavoro da remoto molte aziende hanno deciso di mettere in vendita parte o tutte le proprie sedi fisiche e questo ovviamente ha creato un abbassamento dei prezzi. Sicuramente avrete sentito anche del crollo della Silicon Valley Bank in California, uno dei fallimenti bancari più grandi della storia degli Stati Uniti, e pensate che anche quello è stato causato, almeno in parte, dall'aumento del remote working e dal conseguente crollo del costo degli edifici commerciali. Comunque non sarà facile neanche per le big tech americane richiamare tutti i dipendenti in ufficio, soprattutto per chi ha più potere contrattuale, che quindi potrebbe valutare anche di cambiare lavoro, ricercando tra i criteri di scelta anche la maggiore flessibilità. Ovviamente ciò è possibile soprattutto per i profili lavorativi di alto livello, invece per quelli più di basso livello la scelta sostanzialmente non c'è. Arrivati a questo punto del video, fatemi sapere se anche voi avete avuto delle esperienze positive o negative con il remote working, e se invece siete già liberi professionisti o state valutando di diventarlo, ricordatevi di chiedere una consulenza FiscoZen per valutare di attivare il loro servizio. Vi ricordo il link in descrizione con lo sconto di 50 euro. Grazie dell'ascolto e del supporto, ci vediamo presto. Grazie. 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 Grazie.